Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, quest'oggi vediamo finalmente come si pubblica un video perché ci sono delle accortezze da non sottovalutare che vanno prese in considerazione prima di partire vorrei farvi notare che mano a mano stiamo migliorando il lighting dello studio questa non c'è da prima e mi dà questo effetto che così è un po' bruttino, è un po' forte ma se poi ci aggiungiamo questa che è la mia entry vera e propria di questa settimana si vede tutto un po' meglio, c'è quest'ombra che non mi piace e poi la risolveremo però stiamo facendo dei progressi da non sottovalutare beh ragazzi forse nel frattempo vedete che è un po' cambiata la luce perché è passata qualche ora perché in pratica avevo cancellato il video, stupite la ginemia succede perché in realtà il video l'avevo già pubblicato andiamo praticamente qui sopra e ci sono tre opzioni, carica video che è quello che ci interessa trasmetti dal vivo quindi per gli streaming e crea post che sarebbe per la community quindi quando vi lascio notifiche, in realtà lo uso sempre da smartphone quindi non l'ho neanche mai provato da computer carica video, carica video, carica video, ok qui ci sono quattro opzioni pubblico, non in elenco, privato e programmato quello che uso sempre è programmato ed è perché posso pianificare la pubblicazione cioè nel senso che dico lo pubblico adesso però magari lo faccio uscire domani, fra una settimana, fra un mese quanto mi pare insomma pubblico invece appena è pronto il video esce subito il problema di questa cosa è che spesso esce soltanto a 360p, non è ben indicizzato quindi ci sono problemi sia di qualità che di diffusione del video quindi è sempre meglio dargli a meno una manciata di ore al video per potersi indicizzare e poter uscire, nel mio caso in 4k anche non in elenco vuol dire che il video esce comunque appena pronto quindi come il pubblico ma lo può vedere soltanto chi riceve il link al video quindi io se non vi do il link per il video voi non lo potete vedere privato invece lo può vedere soltanto chi lo pubblica senza distinzioni io pubblico un video, lo posso vedere soltanto io per un altro canale sarà per quel canale a noi ci interessa ovviamente programmato scegliamo il video, potete anche trascinare il video in realtà ecco qua come potete vedere ci sono delle cose già preconfezionate, già scritte perché si può fare questa cosa quindi è molto comodo perché almeno alcune cose tipo i vari link al canale, a instagram, a facebook perché ogni volta metterli sono sempre fissine che cambiano settimanalmente e poi anche una piccola dicitura che è riguardante la top 10 orange per quanto riguarda la top 10 blue semplicemente nella primissima frase io dico secondo le mie opinioni diventa secondo le vostre opinioni quindi faccio questa sostituzione di volta in volta qui sopra vedete io cancello questa cosa e siccome sono miglior oh dio morti dei cattivi possiamo mettere anche cattivi in maiuscolo scelgo due varra tre parole chiave da mettere in maiuscolo per far rimanere più impresso quello che mi interessa in questo caso morti cattivi perché migliori per esempio è una cosa che scrivo molto spesso nel top quindi non mi interessa sapere migliori migliori cosa morti dei cattivi ah sono le migliori le peggiori e poi ti vai a informare magari se ti interessa sapere poi qui abbiamo la pubblicazione cioè la data di pubblicazione vedete possiamo mettere oggi in questo caso sto registrando il video martedì 18 quindi lo pubblica di solito il giorno dopo alla stessa ora più o meno vedete sono le 18 e un quarto ma pubblica le 18 e possiamo vedere cambiare anche il mese quindi io potrei pubblicare da qui a luglio forse anche troppo darvi anni interi per poter pubblicare un video quindi io potrei pubblicare un video oggi e farlo uscire tra 70 anni oddio penso ci sia un limite in realtà comunque c'è questa possibilità mettiamo caso che lo devo pubblicare al mio solito giorno al mio solito ora in questo caso sarebbe 24 anche se in realtà l'ho già fatto uscire il 17 intanto poi lo cancelliamo è soltanto di prova alle 13 io pubblico sempre le 13 è molto importante il testo perché serve a indicizzare meglio il video e farvelo trovare anche a voi più facilmente ad esempio si usano sinonimi in questo caso abbiamo parlato di migliori morti negattivi quindi a posto di cattivi potremmo usare villain e a posto di morti potremmo usare omicidi deceduti migliori più belli solidamente utilizzo a posto di migliori quindi per esempio quali sono i villain che sono deceduti nel modo più divertente interessante emotivo non so scrivere ragazzi mi sto emozionando a parlare davanti a voi vabbè scopriamo in questa nuova classifica è perfetto non so più scrivere e poi tanta altra roba la terra è diverso rispetto a quello che ho scritto l'altro giorno proprio per la top 10 range effettiva però questo è un esempio io scrivo solitamente un po' di righe oltre a tutta questa parte già scritta che vabbè è il link al canale è il link a instagram a facebook perché non cambiano di settimana in settimana quindi perché ogni volta doverli rifare da zero c'è questa possibilità di poter mettere tutto assieme meglio un'altra cosa è l'hashtag in questo caso morti cattivi così qualcuno dovesse utilizzare questo hashtag per cercare le migliori morti dei cattivi potrebbe trovare anche la mia e infine i tag i tag sono molto importanti perché servono a indicizzare il video solitamente si mettono le informazioni più importanti nel titolo e nelle prime righe della descrizione per questo ho ripetuto dirle indeceduti morti divertenti in modo tale che posso utilizzarli e vengono indicizzati meglio sto guardando in realtà lì e non qui all'obiettivo perfetto per esempio quindi in questo caso morti cattivi morti dei cattivi migliori morti dei cattivi poi potremmo essere morti dei cattivi più belle e devono essere tutte parole che ritroviamo anche qui sopra ad esempio soddisfacenti non l'ho messo e potremmo aggiungerli decidere in modo più divertente, interessante, drammatico e soddisfacenti e o questa cosa l'ho usata anche nella versione che è uscita e o cioè con la sbarretta, con lo slash e o soddisfacenti ragazzi non lo so, oggi non riesco a scrivere perfetto quindi questa cosa poi metto i miei soliti hashtag tag quindi top 10 filottete classifiche filottete e filottete sono tre tag che metto sempre per aiutare voi a trovare i miei video e quindi in questo caso ho il video inserito in due playlist quindi voi lo potrete reperire anche attraverso quelle due questo è sostanzialmente quello che succede di volta in volta io ogni volta prendo qui, in realtà scrivo molto di più scrivo qualche riga in più controllo che sia tutto a posto poi quando il video è effettivamente pronto faccio un'altra serie di piccole cose che adesso vi faccio vedere io questa cosa quindi la blocco vi faccio annulla caricamento assolutamente sì fatto per cominciare monetizzazione annunci limitati assenti per la presenza di contenuti non adatte alla maggior parte degli inserzionisti non sto riuscendo a parlare e infatti penso che mi abbiano messo bloccato la monetizzazione semplicemente per il fatto che ci siano scene sanguinolente bisogna tenere conto anche di questo effettivamente non guadagno così tanto quindi non è un problema però solitamente voglio farvi vedere una cosa che è questa vedete questa piccola iconcina grigia è perché qui ho messo un annuncio un annuncio che poi effettivamente nel video è monetizzabile lo metto sempre a cavallo della numero 5 quando sta per partire la quinta posizione metto questa cosa vi faccio vedere l'anteprima no, volevo vedere questa anteprima no, non lo fa vedere perfetto annulla e poi altra cosa che faccio ho questo piccolo plugin che si chiama TubeBuddy che è questo cosino qui che non è di default di YouTube ma è un piccolo mini plugin che infatti vedete qua sopra c'è anche il loghetto TubeBuddy for YouTube c'è una serie di funzioni abbastanza carine tra cui il copiare le card e gli end screen quindi io invece che ogni volta inserirle da zero le schermate e le schede le metto direttamente da lì copiandole dal precedente perché effettivamente è una cosa che li utilizzo sempre alla stessa maniera e quindi me le ricopio e me le rimette nella stessa solita posizione cioè questa qua l'indice del canale è qui e le due proposte di video qua vedi mettendo sempre una playlist che è inerente solitamente all'argomento trattato in questo video più uno che lascio decidere a YouTube il più adatto allo spettatore quindi magari uno interessato più ai videogame quindi invece di proporre i film li proporre i videogame quindi la stessa cosa vale ovviamente per le schede una proposta di video all'inizio che metto che è solitamente l'ultima Top 10 Orange prima di questa sempre una playlist solitamente coincide con la stessa che è poi alla schermata finale e poi sempre vi chiedo se vi piace questa Top 10 questa cosa è molto importante fare questo sondaggio perché mi serve sempre a capire se l'argomento vi interessa se il 99% il 90% delle persone mi dicono no non voglio vedere le morti evito di parlare dell'argomento morti perché magari posso farlo poi migliori morti dei buoni migliori morti degli anime migliori morti dei cartoni animati peggiori morti morti più divertenti morti più disfacenti e via discorrendo quindi questa cosa porta a una serie di video che potrei fare se voi mi dite che non vi interessa già mettiamo un punto alla cosa e quindi ragazzi sembra una stronzata tutta questa parte ma in realtà è molto importante perché serve poi a farlo vedere a voi ora l'ultima parte del tutorial che manca è la miniatura ci sarebbe un'altra cosa che io stavo facendo ultimamente che sono i sottotitoli cioè io mi metto proprio a scrivere tutti i sottotitoli e non lo sto facendo perché è veramente una cosa molto pesante e molto lunga cioè andare qua vi faccio vedere un pezzo vi faccio vedere questo adesso sono i sottotitoli originali fatti da youtube di default e sono orribili adesso lo vedrete oddio è partito molto bene ecco già questo è questo invece che questa ecco al tema anziché al tema oddio ragazzi vi giuro è scritto troppo bene cioè non ci posso pensare ecco sidurato missilato invece che sidurato missilato quindi ci sono questi errori vi giuro che sui denti ce ne sono una marea di più va bene meglio così però è un lavoro veramente tosto che in questo momento richiede comunque un'oretta un'oretta a mezza di tempo farlo fatto bene e spesso mi sfurgono le cose perché lo faccio molto velocemente magari ho altre cose da fare e quindi metto un po' a caso ci sono le virgole da mettere maiuscole la maggior parte delle persone però semplicemente si limita a correggere queste errori qui quindi tipo durato missilato per esempio detto questo ragazzi non c'è moltissimo altro da dire e noi ci vediamo quindi con quella che sarà probabilmente l'ultima parte del tutorial quella relativa alle miniature che penso che dopo il montaggio sia la cosa più interessante più artistica passatevi il termine meno tecnica anche se ovviamente ci sarà un po' di tecnica così vi faccio vedere esattamente come realizzo le mie miniature e quindi ci vediamo la prossima settimana con i tutorial e ovviamente prossimamente con le prossime top 10 quindi ragazzi seguitemi su instagram lasciate un like anzi likeate come dico io seguitemi e commentate soprattutto e fatemi sapere se volete avere altre informazioni e noi ci vediamo a un prossimo video youtube a un prossimo video a un prossimo video